Non è servito il rapporto scientifico della scorsa estate, siglato dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'ARPA Piemonte, dall'Enea, dal CNR. Diceva che non esiste alcun aumento di tumori collegati all'uso del cellulare. Il neurinoma del nervo acustico è e resta un tumore rarissimo, malgrado praticamente sia universale l'uso del telefonino. Anche la Corte di Appello di Torino ha condannato l'Inail a riconoscere una rendita vitalizia ad un dipendente di Telecom Italia che aveva sviluppato questo tumore all'orecchio, secondo i suoi periti, per l'eccessivo contatto quotidiano con l'apparecchio telefonico. Per gli avvocati del lavoratore si tratta di una sentenza storica, addirittura azzardano una tempistica. Secondo loro basta usare il cellulare 30 minuti al giorno per 8 anni per essere a rischio. Non la pensano così i ricercatori di molti paesi nel mondo. Nel 2011 uno studio pubblicato dal British Medical Journal escluse ogni correlazione tra cellulare e tumori. E soprattutto non c'è l'evidenza epidemiologica. Sulla Terra ci sono più telefonini che esseri umani. L'Italia ha la più alta concentrazione di cellulari assieme alla Corea del Sud, eppure non c'è alcun aumento di tumori collegati all'uso di questa apparecchiatura. La sentenza di primo grado del caso di Torino risale al 2017. Già all'epoca fece molto clamore. Il Tar del Lazio impose anche al Ministero della Salute di realizzare una campagna di informazione sull'uso corretto di cellulari e smartphone. Intanto l'OMS ha classificato le radiofrequenze del cellulare nel gruppo dei possibili cancerogeni, assieme alla caffeina e all'acqua troppo calda.